Se stai per acquistare una nuova videocamera, magari per fare i video durante le vacanze, o per aprire un nuovo canale YouTube, probabilmente ti sarai lasciato affascinare dalla possibilità di girare i video in 4K. E quindi vorrei farti una domanda. Sapresti realmente distinguere un video girato in 4K da uno in Full HD? E soprattutto, il tuo computer sarà in grado di gestire dei file così grossi e pesanti come quelli generati da una macchina che gira video in 4K? Perché questi sono due aspetti molto, molto importanti da tener conto quando andiamo ad acquistare una nuova macchina. Il mercato ci affascina con queste macchine potentissime che possono fare video in 4K, ma poi effettivamente noi riusciamo a vederli, a gestirli, ad utilizzarli questi video in 4K? Vale la pena spendere di più per avere una macchina fotografica che farà dei video che poi non riusciremo a vedere? Oggi mi mancano ancora 3 secondi.